Non avremmo mai immaginato che ci si potesse spingere così tanto in avanti come è stato fatto con Guzzini. È la materia che si fa forma. È una collezione che lavora con la trasparenza, con la lucentezza e con il riflesso. Uno si rende perfettamente conto subito che è un oggetto italiano, in pratica, con tutta la sua storia, con tutta la sua importanza. Chi acquista un prodotto come Grace porta a casa il massimo dell'innovazione tecnologica, la ricerca e allo stesso tempo anche 500 anni di storia, di arte e di cultura.